Ciao, sono Lucio e oggi è il mio piacere di benvenirevi a Castorani. Siamo in Abruzzo, nella provincia di Pescara. La nostra estate è nata nel 1793, quando la Villa Castorani è stata construita, il simbolo del nostro cellare oggi. Siamo a una altitudine di 350 metri, a un livello del mare, in un luogo davvero unico, tra le montagne majestiche e l'Adriatico. Grazie a questo elemento, i nostri vigni aggiornano le condizioni climatiche ottimali e i nostri vigni aggiornano le condizioni climatiche ottimali. Montepulciano per i rai, Trebbiano e Pecorino per i rai. Il nostro cellare completamente in grado garantisce i nostri vigni una temperatura di natura costante durante l'anno. i nostri vigni sono il prodotto della nostra passione, l'attenzione ai dettagli, la dedicazione costante al lavoro e il amico per la nostra terra. Oggi, Castorani è la fusione tra le tradizioni italiane e la scoperta di nuove tecnologie. Ma ora, vengiamo al cello. Angelo sta aspettando per noi. Ciao, mi chiamo Angelo, vigni aggiornato di agronomistico. Ho scoperto le vigni e i vini di Castorani. Il nostro vigno è totalmente in grado e uno di loro caratteri è la scoperta distinta di lavorare in cimenti. Abbiamo trovato il nostro Montepulciano in grado di lavorare in cimenti che potremmo esplorare un vigno stile di vigno rendendo i vigni naturalmente smutti e equilibrati ma, allo stesso tempo, salvando una grande textura e complessità. Questa città è una domanda. Aggiornare le vigni di Montepulciano per produrre un vigno di abruzzo appassimento. Dopo molti vintaggi, potremmo dire che abbiamo avuto qualcosa di straordinario per ottenere molte soddisfazioni. Nel nostro sito di barri è pensato per essere perfetto per i vigni ed è piaciuto per lavorare. Abbiamo scoperto di lavorare solo con 500 litri perché crediamo che questo volume rende i nostri vigni esprimendo il miglior equilibrio tra i vigni principali e i vigni di noc. e i vigni di noc. Nel nostro sito di barri è diventato bianco, rosè e vigni di rosso. Il controllo è sempre il miglior modo di guardare i nostri esercizi. Nel nostro equipamento ci permette un profondo scannamento e la nostra produzione è controllata molto spesso per evitare alcun problema. Per esempio, i numeri sono aiutati ma dobbiamo capire i nostri vigni con i nostri sensi. In questo caso, il nostro laboratorio è una tavola di testo che permette a me e a mia squadra per condividere i sentimenti e le idee di lavoro. Dato il proning al bottling seguiamo i nostri vigni diventando vini e poi li fermiamo come messaggi in botti per essere condividi allo del mondo. Abbiamo sempre la nostra bottiglia di bottiglia in i nostri contenuti nelle migliori condizioni fino al momento e poi li abitiamo. In questo caso, la nostra bottiglia è la nostra bottiglia e la nostra bottiglia è la nostra bottiglia e la nostra bottiglia è la nostra bottiglia e la nostra bottiglia questo grande dono della natura con noi e scopri la magia che trasforma le vigni in vino stiamo aspettando per voi